Solo un pareggio al Valle Anzuca per il Francavilla che non riesce a superare il Sant'Arcangelo al termine di 90 minuti che hanno visto la sterile supremazia dei ragazzi di Rachini, calati poi alla distanza dopo un buon primo tempo al cospetto degli ospiti che hanno badato, soprattutto a non prenderle. Giallorossi in campo con il 4-2-3-1 al centro dell'attacco, l'ultimo arrivato Dos Santos, fra i padroni di casa Senti Cruz, Cicerello, Banegas e Alessandro Di Renzo. Romagnoli con il 4-4-2 a centro campo, il sempreverde ed ex pescare Manuel Cascione. Al quarto Dos Santos subito in evidenza con un colpo di testa di poco fuori misura. All'ottavo buona azione di De Costanzo per i padroni di casa che in slalom salta due avversari calciando dal limite sopra la traversa. A fare la gara è la squadra di Paolo Rachini con gli ospiti pronti ad approfittare di eventuali spazi in contropiede. Al diciottesimo i tifosi del Francavilla gridano al gol ma Paravati in area al volo mette clamorosamente a lato. Con il portiere Battistini immobile sulla linea di porta. Copione che vede costantemente in avanti la squadra giallorossa che si rende nuovamente minacciosa al venticinquesimo con un colpo di testa di Caffiero a cui si oppone Battistini. Al ventisettesimo bella rovesciata in area ospite di De Costanzo con la sfera però alta. I gialloblu romagnoli fanno anche un buon possesso palla ma il portiere Francavilla se spacca, non è mai seriamente impegnato. E così è ancora la squadra abruzzese a continuare a creare e a sprecare opportunità come al trentasettesimo con un missile di Sanseverino dai trenta metri che sfiora il palo di sinistra della porta di Battistini. Il finale di tempo vive ancora sui tentativi del Francavilla che però non riesce a passare. Nella ripresa dopo appena 40 secondi Dosantos ha l'occasione per l'uno a zero ma il suo pallonetto in area fa terminare ancora la sfera a lato. Preme la squadra del presidente Candeloro ma al tredicesimo c'è una buona opportunità per gli ospiti con Cascione che trova però la pronta risposta di spacca che para a terra. Arrivano le prime sostituzioni con il passare dei minuti e con i locali però meno determinati e pericolosi rispetto al primo tempo. Per la squadra di Galloppa oggi in tribuna per squalifica non ci sono così grandi pericoli con un brivido solo al trentasettesimo quando Montagnoli in area romagnola mette la sfera a lato. Al quarantaquattresimo ci prova di testa mele per il Francavilla che trova però un Battistini attento poi sul capovolgimento di fronte. Al novantesimo il Francavilla rischia la frittata con la palla che dopo un batti e ribatti termina fuori dopo un tocco di Caffiero che rischia la clamorosa autorete. Al Valle Anzuca finisce senza reti Francavilla-Sant'Arcangelo.